Il provvedimento caudorare scaturisce da un'indagine coordinata della Procura della Repubblica di Livorno effettuata dai carabinieri del Nucleo Operativo Radomobile della Compagnia di Piombino unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno. L'indagine ha permesso di ricostruire un utilizzo illecito della manodopera con la quale sei soggetti, tutti i titolari di aziende operanti nel settore agricolo anche avvalendosi della collaborazione di quattro persone che reclutavano, trasportavano e controllavano i lavoratori impiegavano in univeti e vigneti 67 cittadini stranieri, tutti ospiti del centro di accoglienza straordinaria alle carabelle di Rotorto, approfittando del loro stato di bisogno ed evidenziando la sussistenza degli indici di sfruttamento. I lavoratori infatti non venivano sottoposti alle visite mediche periodiche di controllo non venivano adeguatamente formati in materia di sicurezza venivano chiamati a prestare orari di lavoro ben oltre quelle previste dalle normative di settore raggiungendo anche le 10 ore continuative senza nessuna interruzione ma soprattutto evidenziavano una sistematica retribuzione inferiore rispetto a quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro. In una circostanza il lavoratore è stato pagato 0,97 euro per ogni ora di lavoro prestata. A conclusione è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo ai fini della confisca di 45 mila euro su conti correnti bancari riconducibili ai 6 soggetti titolari di ditte al fine di recuperare per conto del GIMS i contributi previdenziali e assistenziali non pagati dal datore di lavoro nei riguardi del lavoratore.